Si chiama Casa in Compagnia, il progetto della Regione Toscana e dei sindacati e dei pensionati per innovare l'assistenza domiciliare agli anziani non più autosufficienti. A dare via al progetto un protocollo di intesa firmato dal Presidente della Regione Enrico Rossi e dai segretari regionali di SPICGL, FNPC, SLE e UILP Toscana. Dal progetto partiranno idee per assistere gli anziani nella propria casa attraverso nuove tecnologie che permettono da remoto, diagnosi, assistenza e monitoraggio della salute. Noi metteremo in piedi una commissione che elaborerà questo modello che mi risulta suscitare anche interesse a livello nazionale. La Toscana senz'altro è all'avanguardia rispetto a un problema fortemente sentito da tutti, dalle famiglie, da chi ha persone anziane. La popolazione anziana tende anche, come sapete, ad aumentare. Noi siamo della generazione del baby boom. Quando diventeremo anziani saremo tantissimi. E quindi è bene prepararci con qualche proposta e poi su queste proposte ben definite, ben chiare, dare battaglia perché si ottengano i finanziamenti. Intervenire nelle politiche della terza età è cruciale. L'Istituto regionale per la programmazione economica toscana da molti anni evidenzia il forte invecchiamento della popolazione dovuto all'allungamento della vita e al calo delle nascite. Perché invecchiare è una buona notizia. È la non autosufficienza il problema che dobbiamo affrontare. È un problema per le persone colpite ma anche per tante famiglie. Cerchiamo di dare sollievo a queste persone e a queste famiglie. Si stima che in Toscana i non autosufficienti siano oggi circa 80.000 ma il loro numero nel giro di 10 anni crescerà fino a raggiungere i 100.000.